La sfida è prendere per mano il primo o la prima che vi capita accanto a voi e portarlo a ballare. Ecco qua la prima che si accinge, anche la seconda, il terzo, il quarto, so contare fino a sette. Potreste essere chiamati a fare un coro a un certo punto della canzone e immagino non vi tirerete niente. Magico bene. La danza fa pressa poco così, cia cia cia, a sinistra. La sfida è prendere per mano il primo o la prima che vi capita accanto a voi e portarlo con portat phone e portarlo con portavano. L'edizione del lavoro è giù molto succe, giù il tuo lavoro è ilинки di cui ha Aller de nous manger, la tablette brise, aller de nous manger, la tablette brise, mangez, mangez, ravelle, soigne qu'on m'appetit, avec coca qui tienne, pour ma soeur et la nuit. Aller de nous manger, la tablette brise, alle de nous manger, la tablette brise, aller de nous manger, la tablette, avec coca qui tienne, pour ma soeur et la nuit. O'uantelone nous cette papuessesse Dans les jambes de son père et l'on vive brillant Puisqu'il n'ignore un po' de l'âge de 15 ans Et 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Et 4, 5, 6, 6, 7, 8 Lalalalalala Al prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti